Gianfranco Vissani, Simone Ciccotti, e altri colleghi ristoratori e produttori hanno organizzato un picnic di protesta a base di tartufo di Pietralunga e Sagrantino sotto casa del premier Mario Draghi. Alcuni ristoratori di spicco, guidati da Gianfranco Vissani e Simone Ciccotti, titolare dell'antica trattoria San Lorenzo a Perugia, hanno organizzato un picnic stellato sotto casa del presidente del consiglio Mario Draghi. L'obiettivo? Chiedere un'ulteriore accelerata alle riaperture dei ristoranti, dopo l'annuncio che fissa per il 26 marzo un allentamento delle misure di contenimento della pandemia. Ma, secondo i ristoratori che hanno messo in piedi il super picnic a base di tartufo di Pietralunga e Sagrantino. Quanto è stato fatto con la concessione delle riaperture nei Deor non è ancora sufficiente. Abbiamo perso almeno due milioni di euro. Ha detto Gianfranco Vissani. Sotto casa del premier si sono dunque trovati ristoratori e produttori d'eccellenza del territorio. Dai tartufi all'olio al vino. E hanno organizzato un sitting di protesta mangereccio. Un cordiale e garbato invito a pranzo, rivolto al presidente del consiglio. Spiega l'associazione Solidart. Che ha organizzato la manifestazione. Che serve semplicemente a ricordare a tutti quanto è importante e trainante il settore alimentare e della ristorazione per la nostra nazione. Siamo rinomati nel mondo per moltissime cose. Ma al primo posto rimane sempre il buon cibo e il buon vino per il nostro stile di vita.